ciao a tutti amici di roma più eccomi qua di ritorno con un unboxing ed oggi andiamo a scoprire una delle due steelbook per il settimo capitolo di mission impossible capitolo che mi ha divertito un parecchio e che ha tra le sue città anche roma tra l'altro c'è un bel extra su roma nel disco aggiuntivo di questa steelbook ma un disco che un bonus disc che trovate un po ovunque andiamoci a spizzare questa steelbook che vi ricordo è distribuita da fly and picture in collaborazione con paramount picture e devo dire che è una gran bella steelbook che ci presenta una delle scene emblematiche di questo film con il buon tom cruise che si lancia dalla moto per raggiungere un treno in corsa e qui poi lo troviamo vediamo proprio attaccato in una delle scene del film al treno devo dire la steelbook rossa è più bella di questa ma era esclusiva amazon e questa non l'ho reperita da amazon all'interno io fatti vi metterò il link della rossa di amazon ma comunque questa è una steelbook che trovate un po ovunque all'interno troviamo i tre dischi film in edizione 4k film moderno quindi inutile dirvi che si vede alla grandissima agli italiano purtroppo solo 5.1 dolby digita poi abbiamo il bonus disc dove ci sono praticamente delle clip non lunghissime ma per tutte le città e per le scene più iconiche del film tra cui anche quella ovviamente del treno e poi per finire abbiamo anche il disco blu ray che se riesco a tirare fuori ve lo mostro è un calvario sto facendo tutti gli unboxing come sempre uno ed o l'altro e poi è un calvario perché non ho le unghie e non riesco a prendere il disco finale come dicevamo questo è il disco blu ray anche qui c'è una buona qualità e poi c'è anche un artwork interno non è che siamo sotto questo aspetto paramonte sia poi sbizzarrita più di tanto perché abbiamo solo le immagini dei protagonisti principali di questo settimo episodio di emissioni impossible nota a margine è stata fatta una collana di steelbook non si è capito perché esce il film e non hanno fatto una settima steelbook uguale alla collana che era già uscita un po come è successo con transformer questo paramonte prima o poi ce lo farà sapere ma probabilmente ci usciranno poi un'altra steelbook per metterla vicino a quelle ma io credo che resterò con con questa qui poi vedremo per questo video ragazzuoli è tutto io vi lascio il link in descrizione della steelbook rossa di amazon perché mi sembra che questa su amazon non c'è se vi è piaciuto questo video mettete un bel like se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per stare sempre a giornale sull'uscita dei prossimi video e noi ci vediamo al prossimo unboxing ciao ciao a tutti